Ciao a tutti ragazzi, buona domenica mattina, sì è abbastanza presto, lo so che solitamente non siamo abituati a vederci a quest'ora però dato che la Juve poi gioca a orario di pranzo non c'era altro modo per cercare di chiacchierare insieme a voi, analizzare, cercare di analizzare la partita che andremo a vedere. Sarà una partita molto molto tosta anche se dal punto di vista dei convocati abbiamo una piccola sorpresina e ci arriviamo, prima ovviamente vi chiedo di lasciare un mi piace a questo video, un commento a questo video cercando anche di spiegarmi secondo voi che tipo di partita sarà e dato che vedo che tantissime persone guardano i video ma poi effettivamente non sono iscritti al canale, se seguite appunto i contenuti che pubblico, se volete anche unirvi alla community beh non possiamo fare altro che esserne estremamente contenti. Dicevamo i convocati fuori Lukman, Oilund e Palomino per via di problemi fisici muscolari e quindi Gasperini non avrà questi tre giocatori a disposizione, poi andiamo un pochino nel dettaglio a parlare di quelli che sono singolarmente questi calciatori di vitale importanza per Atalanta ma non dobbiamo ovviamente pensare che fuori questi abbiamo vinto anche perché anche la Juve ha qualche indisponibile, il livello, l'unica parola che mi viene in mente, l'importanza dei giocatori non è ovviamente paragonabile perché noi abbiamo fuori De Sciglio, sappiamo che purtroppo l'altro giorno ha subito un infortunio molto grave che lo terrà lontano nei campi da gioco per una gran parte anche della prossima stagione, Caio che è ancora infortunato, questo ragazzo veramente purtroppo non è ancora in condizione ed è passato un bel po' di tempo dal suo infortunio e Paredes per squalifica, lo sapevamo, ha preso il giallo nell'ultima partita dove ha pure fatto gol e quindi non sarà disponibile. Convocato invece Barbieri un po' come ipotizzavamo nel video dell'altro giorno in cui parlavamo appunto dell'infortunio di De Sciglio e per arrivare a fine stagione numericamente servirà un giocatore in più, immaginavamo quindi la convocazione dei Barbieri e infatti è arrivata puntuale come è avvenuto a Reggio Emilia col Sassuolo sperando che possa essere ovviamente una partita con un esito differente a quello che è stato veramente disastroso. La formazione, la probabile, dovrebbe essere la titolare, quindi Scesne in porta, difesa brasiliana con Bremer, Danilo e Alexandro, sugli esterni Quadrado e non Kostic bensì Iling, poi parliamo un attimo nel dettaglio di questa cosa, Locatelli, Rabiot e Fagioli a centrocampo, Di Maria dietro ad Ujan Vlaovic. La titolare tranne appunto per Iling al posto di Kostic, Kostic che è estremato da qualche partita, lo vediamo che è veramente stanco, l'abbia ripetuto tante volte, quindi l'idea di giocare con Iling dal primo minuto, devo dire la verità, mi stuzzica, forse non so se era la partita giusta questa per far riposare il croato, però ovviamente dobbiamo anche pensare al serbo, non il croato, dobbiamo anche pensare al fatto che poi giovedì giochiamo una partita di Europa League molto importante, quindi se riuscirà a tirare il fiato ben venga. Nelle ultime partite abbiamo preso tanti rigori contro, contro lo Sporting Lisbona, contro il Bologna, contro l'Inter, contro il Lecce e secondo me nasce dal fatto anche che abbiamo alternato tanto la difesa nei titolari, quindi tornare al trio brasiliano secondo me è anche un'idea di Allegri da questo punto di vista, cercare di ritornare un attimino alle origini quando si era attraversato quel periodo di buona forma fisica della squadra, potrebbe starci, secondo me è un ragionamento coerente. Gli ultimi confronti, all'andata un 3-3 con Lukman, appunto, protagonista con una doppietta, lo ricorderete, uno all'inizio del primo tempo, uno all'inizio del secondo tempo, e l'anno scorso invece a Bergamo un 1-1 con gol di Danilo sul finale. Vi racconto un aneddoto. Brutto, bruttissimo segnale, perché poi magari l'Iventus poteva perdere altri punti per strada e non arrivare in Champions, quindi siamo lì, questo è ancora più importante perché è ancora più sul finale di stagione, e quindi vediamo di portare a casa, di provare a portare a casa una vittoria. Lukman e Oilund sono i due capocannonieri dell'Atalanta. Lukman con 13, Oilund con 7, ed è per quello che vi parlavo di assenze importanti, ma allo stesso tempo, attenzione, perché loro davanti continuano ad avere dei giocatori che magari non sono più in forma, come una volta, quando erano dei nomi veri e propri all'interno del campionato italiano, ma possano far male. Infatti dovrebbe giocare Duvan Zapata davanti, che ha segnato soltanto due gol in Serie A, ma sicuramente, e contro di noi lo sappiamo bene, negli anni ha dimostrato, ha fatto delle prestazioni incredibili. Quindi, così come Muriel, così come Bogat, sono giocatori che a noi possano dare fastidio in un qualsiasi momento. Cerchiamo di non esultare per la mancanza di giocatori importanti, che sì, sarà sicuramente un attenuante, sarà qualcosa che andrà a influenzare sportivamente la partita, ma questo non significa che si è vinto, non significa che sarà una passeggiata, anzi, secondo me sarà una partita molto complicata. Non so, io sinceramente fatico in questo momento a immaginarmi una partita facile nei confronti dell'Atalanta. Ecco, dovessi fare una sorta di pronostico, non riuscirei ad essere così ottimista. Una punta di pessimismo ce l'ho ancora, anche se indubbiamente le ultime due partite sono andate in una direzione leggermente riferente rispetto al mese di aprile terrificante che abbiamo visto. Occhio però a Cobainers, che è un giocatore che è convocato, sarà della partita ed è un altro che sta facendo molto bene quest'anno con la Dea. È un vero e proprio scontro diretto e attenzione, siamo a 58 contro 63 a livello di punti, quindi perdere sarebbe deleterio perché porteresti un'altra squadra a 61, senza considerare ovviamente il discorso extracampo, quindi eventuali penalizzazioni, bla bla bla, quello ne parleremo eventualmente in un altro momento. E dopo i scontri diretti di ieri, iniziare a perdere per strada gli altri punti sarebbe una follia totale. Poi mi sono visto tutto il Milan, la perdita di Leao in chiave Champions potrebbe pesare tanto, però il Milan che vince si porta anche lui vicino alla Juve con ancora lo scontro letto da giocare. E attenzione, attenzione perché basta dare un'occhiata alla classifica, sono letteralmente tutte lì e rigenerare tra virgolette l'Atalanta regalando praticamente 6 punti, perché uno scontro diretto virtualmente regala 6 punti, non c'è più margine poi di manovra e quindi non è un bel incastro. Vincere sarebbe meraviglioso, perdere sarebbe un disastro, il pareggio potrebbe non accontentare nessuno, quindi è una partita determinante, determinante. Allora tra casa e trasferta cambia poco, perché in casa hanno fatto 30 gol e ne hanno subiti 21, sono abbastanza in linea con i 56 fatti e 39 subiti in generale e sono leggermente meglio a Bergamo, quindi occhio anche a questa cosa. Come gioca l'Atalanta? Vabbè, li conosciamo. Sono una squadra intanto aggressiva, sono spesso in zona di rifinitura, giocano quindi molto sulla tre quarti, attenzione, sono la migliore squadra in Serie A dopo il Napoli per passaggi sulla tre quarti. E lì è molto difficile cercare di prendere l'uomo perché si mescola sempre tra le linee ed esce il difensore, esce il mediano, quindi Locatelli io me lo immagino molto basso. Se qualcuno dirà gioca sempre basso, sì, me lo immagino ancora più basso, a dare una mano a Bremer perché ci sarà veramente bisogno di un lavoro quasi dei tagli e cuci perfetto e delizioso tra Bremer e Locatelli sarà un po' anche, secondo me, il punto dove si deciderà la partita. Perché per via centrali, poi li fai sfogare sull'esterno, certo, però il gol lo prendi per via centrali e perdere la marcatura lì, vero che non c'è più Malinoski che da quella zona ci ha impallinato in più di un'occasione negli anni passati, però hanno comunque dei giocatori che dalla distanza sono molto molto forti, tra cui appunto Kopmeiners, come dicevamo prima. Dribblano tanto, ma tanto, 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 infatti statisticamente sono la miglior squadra di Serie A per dribbling effettuati a partita. Occhio che invece noi sull'uno contro uno siamo veramente una squadra scarsa, quindi cerchiamo di stare attenti almeno dal punto di vista difensivo a questa cosa. Loro ama ripartire, lo sappiamo, ma sono anche una squadra che gioca molto alta e infatti sono la miglior squadra in Serie A per recuperi effettuati. L'altro giorno che abbiamo giocato contro il Lecce erano terzi, i terzi in Serie A per recupero palla e questa cosa si è vista tanto, il Lecce ha recuperato tantissimi palloni contro la Juventus. Loro sono maestri in questa cosa qui, loro sono i più bravi in Serie A a fare questa roba qui, è già la seconda statistica in cui diciamo sono i più bravi in Serie A, sono anche in un ottimo momento di forma, quindi attenzione che nonostante gli assenti loro hanno un'impronta di gioco che fa sempre male. Infatti sono la terza squadra che corre di più dopo Lazio e Inter. Noi siamo gli ottavi, non è un caso, attenzione, che tutte le volte che affrontiamo l'Atalanta magari Allegri cerca di chiedere qualcosa di più dal punto di vista energetico ai suoi giocatori, perché semplicemente se non ti metti al loro livello, se non vai a overperformare dal punto di vista fisico, ti asfaltano, sono un ruolo compressore. E la domanda che viene spontanea è, in questo momento la Juventus ce la può fare a overperformare dal punto di vista fisico? E qui probabilmente entra in gioco anche il discorso relativo a Kostic, magari Kostic parte dalla panchina, gioca a healing, che ha più forze fresche, proprio perché se non ti metti sullo stesso piano dell'Atalanta dal punto di vista fisico, ti disintegrano, ti passano sopra. Allo stesso tempo però sono anche la squadra che ha subito più rigori contro, cerchiamo di sfruttare questo dato, perché ovviamente sono una squadra che gioca alta, quindi magari può scappare via al difensore un attaccante su una ripartenza, sono anche una squadra aggressiva, se metti insieme queste due cose, magari entrati in area, sono obbligati a stendere il tuo giocatore. Quindi occhio, perché questa può essere una chiave della partita, Juventus dovrà cercare le ripartenze. Dato che l'abbiamo detto mille volte in stagione, non siamo così bravi nelle ripartenze, domani un occhio di riguardo a questa cosa, perché si può vincere anche con un episodio, si può vincere con una ripartenza, si può vincere con un calcio di rigore, generato da una ripartenza, generata da un episodio. Attenzione, è una partita molto importante, giochiamoci anche queste armi. E attenzione ai loro gol dalla panchina, perché anche loro sono molto bravi, come dicevamo con il Napoli, sono una squadra che ha segnato tanto con i giocatori che non partano titolari, quindi attenzione perché possono veramente sfruttare anche questa caratteristica. L'avevano detto con il Napoli, infatti è andata così, proprio il gol di Raspadori da subentrato. Attenzione a questa cosa qui. Ragazzi, noi ci vediamo a orario di pranzo, di una domenica un po' più particolare rispetto al solito. Forza Juve, ovviamente, e oggi servirà davvero stringere i denti, perché la vedo è una partita molto tosta, molto difficile. Grazie. Grazie.